Le maschere di miei non servono a un cazzo, ve lo dico in inglese stretto, ok? Sapete la cosa serve? No, adesso te lo dico io. Sai cos'è che serve? La distanza. Ah, beh? La distanza! Perché per meccarti il virus, se io fossi positivo, tu sai cosa devi fare? Devi stare con me e baciarmi per 15 minuti con la lingua in bocca. Altrimenti non te lo betti il virus. Non penso solo... No, no! No! Allora, il virus si becca se tu stai in una frequentazione in cui tu le gocce di saliva ti arrivano per un minimo 15-20 minuti addosso.